Musica Ragazzi ci siamo, oggi sono in compagnia di Michelino sono venuto a trovarlo alla Casa al Mare mi trovo sulla costa dei Cedri in questi giorni è stato brutto, mare molto mosso e in realtà stanotte dovrebbe anche piovere quindi c'è anche bassa pressione il mare dovrebbe andare in scaduta già da domani però ci proviamo già da oggi per provare a vedere questo spot com'è già stamattina abbiamo perlustrato un po' la zona per vedere dove metterci in pesca e ci siamo fermati proprio qui dove siamo adesso c'è uno scoglio di fronte a noi molto grande più altri due o tre sommersi quindi ci potrebbe essere anche presenza di grossi saraghi non ci resta altro adesso che preparare l'attrezzatura e metterci in pesca Saragottino mamma mia sono un mignone occhiata speriamo di vedere qualcosa di meglio però con un mare così andare sul fine non ha molto senso quindi 4-5 bigliettini su un amo del numero 16 e via a pescare ecco non altro mamma mia tutti piccoli questa mattina quando abbiamo ispezionato la zona e il mare era molto più calmo oggi pomeriggio ce lo siamo trovati montante e quindi ci stiamo trovando un po' in difficoltà nell'approccio di pesca abbiamo un'attrezzatura un po' troppo light quindi facciamo fatica a stare in pesca nella maniera corretta ecco non altro mamma mia ma è pieno 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 ce ne sono una quantità industriale di questi qui dai vai mici salpa salpa bellissima occhiata eh insomma un po' più bella delle altre dai c'è già qualche cosa vai mici altra occhiata la dimensione è questa purtroppo vai vai rilasciamo eccolo prima occhiata occhiatina pescata improvvisata oggi purtroppo a causa dei tanti impegni che mi stanno riempendo le giornate in quest'ultimo periodo sto scendendo davvero poco a pesca in realtà avevo programmato una pescata insieme a Paolo proprio domani però oggi non ho resistito ho preso le bolognesi e sono venuto al mare a pescare come esca dietro al bigattino proverò ad insediare qualche orata al calasole e prolungherò fino alle prime ore di buio una cosa che non ho controllato ma che controllo di mia abitudine sono le maree ho capito che siamo in bassa marea perché un po' dalla profondità un po' vedendo anche i piloni e le cozze di fuori ho capito che siamo appunto in bassa marea il picco di bassa alle 7.20 sono le 7 ora quindi mi sono trovato anche nel momento giusto allora potrebbe girare anche qualche pesce potrebbe mettersi in attività davvero qualche orata eccola ragazzi ecco l'ecco 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 l'ec il primo lancio e prima rata presa come inizio direi niente male in realtà pensavo fosse un po più grande perché avevo la frizione ancora serrata non avevo tarato tutto a dovere e tirava e anche parecchio quindi mi aspettava una pezzatura un po più grossa adesso questa qua la butto in alza e continua a pescare perché come inizio ve l'ho detto non è per nulla male speriamo ce ne siano altre un po più grandi ha sbagliata atti sta iniziando a mangiare si ha mangiato anche parecchio al galleggiante che va da sinistra verso destra c'è tanta corrente oggi e sto cercando di frenare appunto la passata del galleggiante appoggiandomi a terra sono appoggiati di circa 30 centimetri sul fondo anche perché quale orate mangiano ecco un'altra mangiata ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ve lo stavo dicendo ed eccola qua dovrebbe essere un'altra rotella questa è proprio piccina mamma mia questa rispetto a quella di prima è davvero piccolissima quello che stavo cercando di dirvi prima che ferrassi era appunto questo cioè che l'orata mangia con l'esca ferma quindi sto cercando di tenere i bighettini più fermi possibile sul fondo appoggiandomi col terminale ve l'ho detto sono appoggiato i 30 centimetri anche perché c'è corrente quindi sto cercando di trattenere la passata in un raggio abbastanza corto sono su circa dieci metri di passata massimo eccola ragazzi ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho ce l'ho un'altra orata anche questa abbastanza piccola in realtà speravo che con la prima orata la taglia al posto di diminuire aumentasse ma invece qua stiamo andando al contrario quindi sono davvero piccole mamma mia eccola un'altra eccola un'altra eccola un'altra anche questa sembra questa non è grande come le ultime sembra un po più bellina e forse va anche guadinata questa è piccola però forse è meglio guadinarla eccola qua si è un po più bellina delle ultime due ma niente di particolare eh niente stiamo andando al contrario al posto di aumentare la taglia sta andando a diminuire però dai tutto sommato c'è da divertirsi oggi insieme al sole se ne sono andate anche i pesci l'attività è calata in maniera drastica da quando ho messo lo starlight non ho più visto mezza tocca sto un altro paio di ore sono le otto e mezza faccio un altro paio d'ore poi vado a casa niente da fare dai niente da fare il buio non ha regalato nulla raccolgo anche la spazzatura di qualcuno che ha lasciato la roba qui è stata anche bravo a metterla tutta da parte e poi non lo so cosa ci voleva prendere a buttarla nel bidone adesso la raccolgo e la butterò come avete visto l'attività dei pesci si è concentrata in una singola ora ho già riportato il fatto in altri video dove dicevo che appunto le orate qui mangiano circa mezz'ora prima e mezz'ora dopo il picco di bassa quindi un'ora a coprire tutto il culmine di bassa marea e anche oggi è stato così c'è stata maggiore attività dalle 7 alle 8 di sera voglio precisare è soltanto una cosa che in tantissimi mi hanno scritto su instagram facendomelo notare ed è il motivo per il quale io spesso e volentieri rilascio le mie catture anche se potrei trattenere in realtà la questione è molto semplice come ho spiegato da alcuni di voi io per una questione mia di etica di pescatore sotto il mezzo chilo rilascio tutti i pesci so benissimo che potrei trattenere anche questa rata qui che ho rilasciato ma ho preferito liberarla per questo motivo qua alla fine come vi avevo anticipato nel programma una pescata insieme a paolo alla quale si sono aggiunti anche il mio zio e il mio cugino pietro abbiamo deciso di fare una notturna che però purtroppo non ha regalato nulla a parte una piccola rata presa da zio col pasturatore e una soglia la presa da paolo a fondo col muridu io comunque vi invito ad iscrivervi sul mio canale per continuare a seguire le mie avventure di pesca mi potete seguire anche su instagram se avete delle domande commentate qui sotto e noi ci vediamo qui su youtube col prossimo video ciao ragazzi ciao Grazie a tutti.